La Polizia di Pisa ha individuato e indagato otto minorenni resisi responsabili a vario titolo di diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all'odio razziale per propaganda antisemita e detenzione illegale di strumenti atti all'offesa. L'indagine spiega in una nota la Polizia preso il via da un altro procedimento penale risalente alla fine del 2019 relativo a un'inchiesta su una presunta violenza sessuale conclusasi con un'archiviazione. Analizzando il cellulare di un sedicenne che era stato coinvolto nelle indagini sulla presunta violenza, la squadra mobile avrebbe scoperto immagini di bambini costretti a subire atti sessuali. A inviarle sarebbe stato un altro ragazzo minore dei 16 anni nella cui abitazione dove vive con i genitori una perquisizione ha portato alla scoperta di quella che gli investigatori hanno definito una vera e propria Santa Barbara. Rinvenute numerose spranghe, bastoni, pugnali, la targa di un motorino rubato e vari petardi illegali. Analizzando poi computer e cellulari dell'adolescente sarebbero stati scoperti una serie di file nei quali il giovane amava farsi riprendere durante il compimento di atti vandalici commessi in città a volte insieme ad altri coetanei, oltre ad essere in possesso di alcuni video tutorial estratti dalla rete vertenti su come realizzare ordigni rudimentali utilizzando prodotti pirotecnici comunemente in commercio. In due chat inquisite gli investigatori avrebbero poi trovato anche frasi inneggianti l'olocausto e figure raffiguranti Adolf Hitler inneggiato con frasi ironiche quali premio Nobel per la brace.